Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. O angelico giovane Gabriele, che con l'ardente vostro amore a Gesù crocifisso e con la tenera compassione alla Vergine Madre addolorata, vi rendeste in terra specchio di innocenza ed esemplare di ogni virtù, a voi ci rivolgiamo, pieni di fiducia, implorando il vostro soccorso. De, mirate quanti mali ci affliggono, quanti pericoli ci circondano, e come da ogni parte si tendono insidie alla gioventù in singolar modo, per farle perdere la fede e i costumi. Voi che viveste sempre vita di fede, ed anche fra gli incettivi del secolo, vi manteneste puro ed illibato, volgete sopra di noi uno sguardo pietoso ed aiutateci. Le grazie, da voi concesse continuamente i fedeli che vi invocano, sono tante che noi non possiamo né vogliamo dubitare dell'efficacia del vostro patrocinio. Otteneteci finalmente, da Gesù crocifisso e da Maria addolorata, rassegnazione e pace, affinché, vivendo costantemente da buoni cristiani, in tutte le vicende della vita presente, possiamo un giorno essere con voi felici, nella Patria celeste così sia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.